Un piccolo, irregulare carlovo OCS certificato organico che sempre mantiene il suo colore naturale è tristato con una viscose FSC contrastante e una fine lutex chinetta con un'apparenza buona. La nostra proposta è inspirata dal spirito del capo Chanel con un calcio M2000, che può essere knittata con 3 gage, che sicuramente troviamo anche un'interpretazione nel mondo del tricot. La carta del colore viene da dei toni più classici a dei colori e captivanti. I colori pronti di semplice sono marcati sulla carta del colore, mentre per gli altri 12 kg sarà necessario.